E ora spostiamoci in un laboratorio di ultimissima generazione con strumenti di ogni tipo all'avanguardia e molto sofisticati per un esame molto più specializzato. Allora, prima cosa che proviamo, coltellino svizzero, una garanzia. Proviamo con la lama. Non ci sono i graffi. E adesso proviamo con questo che non so cos'è ma è ben appuntito, sarà ad aprire scattore di alluminio. Nulla, passiamo a qualcosa di più. Una lama nuova, ma è tale che sia molto affilata. E vediamo. Cosa succede? Nessun graffi. Proviamo con qualcosa di più duro. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Un cacciavite. Niente. Un pappagallo. Niente. Scalpello. Niente. Proviamo col martello. Niente. E non ci sono neanche graffo. E non ci sono neanche graffo. Possiamo provare. Un sasso. Il vetro. Il vetro. Ma vediamo se sta funzionando ancora il telefono. Direi. Non ne risente nemmeno il touch. Proviamo. uno scalpello più grosso. Un scalpello più grosso. Niente. Non spacca. Questo. Vediamo un po'. Incredibile. Dopo 200 martellate siamo riusciti ad ammaccare l'Active. Il tuo telefono riesce a fare di meglio? Grazie a tutti